Hai catturato la zona A! Hai perso la zona A! Hai perso la zona C! Hai perso la zona A! Hai perso la zona A! Grazie a tutti. 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 Hai perso la zona C. Grazie a tutti. 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 Hai perso la zona C. La tua squadra è in ruta. 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 Hai perso la zona C. Hai perso la zona C. Hai catturato la zona A. la tua squadra è in ruta. la 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 tua squadra è in ruta. La squadra è in ruta. La cattura è in ruta. sei per la squadra. La squadra nemica è inrutta. Il nemico sta caricando. La squadra nemica è inrutta. Il nemico sta caricando. Il nemico sta caricando. Sì. Cosa ossi. La squadra. Sì. Oh La squadra nemica è in rotta Oh Hai catturato la zona C Vittoria Che La squadra Che Sì Sì